sta sistemando tutto eccolo la, quello si, si, voglio sapere il passaggio usano pure quello sono fuori qua allora, rispetto a la direzione del carro in una bella direzione per te a ore 4, 6, 5 quindi la casa di sotto all'animo house tra un po' se lo so dire precisamente comunque quella zona lì ogni caso lo sanno che sotto c'è, ci sono gli italiani si 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 Ecco Luca, appena fatti fuori due. Ecco la postazione. Perciò c'è un'altra zona, c'è una zona che viene caricato, qua ci vuole vande, c'è roba che ci teniamo a vedere, perché ve lo usate due, 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 due. E allora io ho tre parti, quindi dopo dopo dopo? Ecco, la risposta è arrivata. non voglio andare come un bel asciutto un bel asciutto un bel asciutto eh? Ombra Recipo? Chi chiama me? Ombra Recipo? Si Ma fanno le foto con le cose lì? Che botti eh! Che spettacolo! Questo caldo è uguale! Qua faccio vedere... Senti, senti! Oh! Si fa una panoramica, eh! Senta... Si dà pure i totori! Io metto adesso la panoramica Eh! Da prima al quadro dovete... C'è tutto, cazzo! Oh! Poi ti faccio vedere due... Eh! Se riuscite le prendo! Dove sono? Dove sono? Dove sono? Sì! 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 Ancora vivo quello? Sì! Eh! Alza la testa ma deve essere ferito... Che brutto! Ma pure lì... Lì mica è arrivato un milan lì! Lì Dio che era! Lo vedo da dentro l'utrici con la videocamera! Sì! Guarda quanto è bellino la terra! Eh! Eh! Vediamo come si muove! La vedi che muove la testa? Sì! Ma non si esce a capirlo da qua! Perché poi si sgrana! Però sta la terra! Oh! Scusate! Scusate! Ragazza viva no! Questa è la segura che ha fatto sul ramo la testa! Guarda come si muove! Guarda questo bastardo! Luca! Annichiliscilo! Sto che è peccato da vieno! Vesco! Non c'è più! La casa è un casino! Ma sapevamo che ci sono! ci pregano questi eh ragazzi guarda si no la la non c'è c'è un taxi lontano in fondo quella gente lì che stanno sparando qua primo perchè colpo singolo non sanno cosa vuol dire sta banda dei coglioni secondo ci sono gli italiani lì sotto comunque e poi in ogni caso qui colpi non ne abbiamo mai sentito fischiare quindi non lo so colpo singolo no ragazzi ditemi qual è la casa aspetta prima il dispositivo dell'esercito se hanno gente sui tetti perchè rischiamo di tirarci addosso l'uno con l'altro stiamo c***o stand by se loro vedono che uno da coma 21 aspetta fammi sparare ricevuto stiamo sicuri che non è nostro no 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 scusa ma perchè perchè l'ho alfa è andata via ma l'ho sporco come mai si è decepata ma adesso io spazzo tira due botti per vedere se va occhio tira due botti per vedere se si è tolto inceppamento tiragli il semplice va bene funziona 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 si l'ho visto? dopo quella casa lì c'è uno che corre vai anichilisci lo porco zio allora praticamente ha detto il casottino sulla destra in mezzo alla traccia c'è quel casottino piccolino sotto il palo della luce e lì c'è non sprecate le munizioni però no 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 si era inceppata stava controllo non sprecate le munizioni quando non è sufficiente viste come arriva no? oh raga hai visto come arriva no? hanno visto minchia arrivano oh raga luciano ci sono due bersaglieri stanno andando sul casottino occhio eh buona terra che cazzo ci torniamo subito eh ma tanto ora che ci sono portato il panzer adesso è arrivato anche i vecchi due chi è oh? chi cazzo è oh? chi cazzo è oh? no 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 è tutto ok è tutto ok se no c'era la polvere c'era la polvere c'era la polvere qui c'è il Puma 21 col carro e il Puma 22 col suo carro novità riguardo il tiratore oh cosa c'è quello lì? devi scarchi che cazzo c'ha in mano? cosa c'è quello lì? guarda quella macchina che c'ha eh se magari possiamo riuscire a contattare anche quelli dell'esercito per capire se hanno personale posizionato sui tetti o meno perchè noi rischiamo di sparare di addosso oh ditegli a Luciano che dentro quel casottino c'è il coso quindi non deve sparare assolutamente con la direzione mia sono i nostri che stanno sparando c'è l'albero davanti lui non vedo è coperta dove stanno? dove stanno? dove stanno? no sono al gabbiotto capo sono al gabbiotto i bersaglieri sono lì? anche Enzo è al gabbiotto sono nell'agarizzo stanno tirando a quel g capo che sta andando ma chi c'è? 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 ma dove stanno sti bersaglieri? sono lì sono al gabbiotto qui di fronte sono al gabbiotto perché ci sono andati qua a vedere un pochettino quel panzerfaus Enzo è andato a rai... attenzione ragazzi ragazzi lì sopra sul casottino è quello piccolino aspetta un attimo simo c'è uno è entrato a casottino si sono tutta gente armata più avvicino è speso aspetta un attimo simo c'è uno è entrato a casottino oggi sei appena appena vicino vai preso preso tre armati dentro il gabbiottino ora devo smontare questo perché non c'è palata che cosa? questo qui dammi velocità sulla strada no no aspetta se non c'è un cazzo non spariamo praticamente loro si rifugiano perché dietro al casottino c'è una strada che scende si sono buttati dietro bola bola da delta allora mi dicevano che praticamente dietro il casottino c'è una stradina che scende quindi probabilmente in questi che scappano questa storia si oh 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 yeah ragazzi ragazze io quella cazzo di brownie simone dicio ormai è tutto nel calderone vai dentro il atveto un altro confetto vuoi fare il disobbediente voglio ma che cassa era cioè ma la casetta la casetta la casetta si è polverizzata ma Luca si sta giocando esatto Marcello che botto quanti ne avete voi? abbiamo uno qua dentro e due sul tetto e poi gli altri qua sotto e abbiamo due per squadra ma ci vedete anche la pia? no un attimo vi sto pestendo vi sto pestendo avanti vai grande vai Luca non ho capito bene l'ha seccato ah vai Luca ha annichilato bravo Luca bravo un duvenato hanno portato gente via stanno portando col piccato via gente che era a terra ah i morti allora mi sa che qualcuno l'abbia preso mi sa proprio di si non voglio essere basso ah no scusami dimmi perciò che vedi la postazione allora secondo porto seconda governo cinque metri a sinistra sacchetti in basso postazione la vedi? la vedi? adesso in quanta metri a sinistra in due pali vedi che stanno sparando? minchia il tipo con la postazione con l'rpg le vedi? so sacchetti li si abbia ok appena puoi quello lì la postazione è a destra si hai caricato il missile? vai aspetta aspetta via di fianco via di fianco che ora parte il missile aspetta ti preoccupa appena vedi ascolta nel giudio fina la gente hai capito? non tirare nel buco capito? tieni non i mirini nel giudio metti la gente non mi vuoi? ciocco preso bravo preso perfetto preso 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 attenzione non lo cazzo il missile giù scendiamo è vivo? lando è vivo Grazie a tutti. Qui arrivano bassi? Oh! Sì, tieni. Dio, porco, che cazzà. Ciapa. In chi? È la luce da Simone. Dove è Simone? Da sotto. Simone, sei sotto? La vedi? Qua, guarda. Eccola. Ok, questo po' il colpo, hai visto come passano bassini? I cani, ti hanno atteso proprio. Io sto pensando i carri che sono dall'altra parte. Poveracci. Li sono altri carri, giusto? Sono appiedati tutti? Sì. Oh, porca droga. Quella è ripresa anche dell'Animal House. Ok, cazzetta. Secondo me... Dai, siamo entrati con Puccicino, che entrano qualcosa. Come? Siamo entrati con Puccicino, che entrano con WM. No, no, dico, comunque... Dove si mette? Chi è questo? Eccola con l'altro. Cos'era sta cosa? Dovrebbero avanciare questi cosi rossi per segnalare che abbiamo... Oh, c'è movimento là sotto, guarda. No, sì, l'ho visto, l'ho visto. Lì, lì. Occhio. Oh, ragazzi, vi state mettendo in mezzo a noi, occhio. Ragazzi, vi sca... E qui abbiamo la brauna del coso. Postati. Ma come il cazzo lo fa? Dai, ragazzi, siamo tutti dalla stessa parte, su. Il cazzo lo so io di chi. Non li fanno mica, chi cazzo lo so. Chi sono? Dai. Ma chi sono? Chi è? Magico. Magico. Ah, ma è magico. Oh, scusa, magico, non l'avevo mica riconosciuto, pensavo fossero i nostri. Però, ragazzi, anche loro sono messi male, eh. Cioè, io dico quelli là, quei mezzi lì sul ponte. Quelli sul ponte, ragazzi, sono morti. Quelli sono morti. Tra un po' arrivano gli RPG lì, eh. Occhio. Occhio e botti. E comunque, oggi il camion non ce l'abbiamo. Madonna. Mamma mia. Madonna, ragazzi, guarda che roba. Mica, hanno scatenato l'inferno, ragazzi. E lì è il centro città, eh, ragazzi. Oi, questo è dove cazzo è partito? Quello è il centro città. Quello è il centro città, eh? Sì. Sta partendo tutto dal centro città, lì. Dove sono... Ragazzi, bisogna andare tutti lì e sparare tutti. C'è poco da fare. Dove? In città, centro città. Sì, sì. Bisogna andare lì tutti sul ponte e sparare tutti quanti. Tutti insieme. Tutto quello che abbiamo. Porco Dio. Questa è la reazione dei nostri, mi sembra. Ragazzi, qua c'è una schifta. Minca, senti... Minca, come fischiano. Sì, anche io. Ho sentito poco vicino. Madonna santa. Come passano? L'RPG è caduto sull'acqua, eh? Ragazzi, c'è la colonna di fumo. Hanno beccato qualcosa. Hanno beccato... Ma l'esplosione hanno beccato qualcosa? Ma ce la fanno a spostare quel cazzo di due? Amore. Oh, che cazzo. Oh, che cazzo. Guardi là dove sono. Li vedi che corrono? Sì, li vedo. Li vedo che corrono. Ma questo è sto stuporco. Ma questo generore è un criottino. Questi vogliono crepare così? Allora, che stanno attaccando i nostri di là. Dovrebbe dovuto avere un'altra colonna da questa parte qua e andare lì da di carri E prenderli alle spalle, ragazzi. Così, cazzo, sono tutti i punti. Quanti sono? Due VCC. Guarda lì, guarda lì. Eccolo, stanno prendendo? Sì, mi sa che hanno anninchilito un caso. Sì, mi sa che ha accettato il nome di qualcuno. Probabile. Anche l'RPG è impressionante, oh. Ma come stanno facendo sto mezzo? Finchie, ragazzi. A litigare. Quando me l'ha detto ieri tenente Barbieri, a me e gli altri marescialli, sono rimasto un'ora a discutere a te, ma che cazzo state dicendo? Potrebbe essere anche il Consuline. Cioè, le hanno avvestimenti. Cioè, battono. Perché adesso questi qua li aggirano, eh. Adesso qua cercheranno di aggirarli. Cazzo, stanno andando di carri. Ma allora, metti. Quelle case lì, quelle macchine lì, 700? Sì, siamo fuori. Con il... Con il... Dai loro ragazzi noi siamo al sicuro, ma loro dalla mia Browning mica tanto. Loro dalla Browning, no. Eh, infatti, sono spostati. Infatti. Però bisogna vedere, questi non stavicini o che sono. La macchina è salita, gente armata è andata via. Il pick-up, ora c'è il pick-up. Sì, ragazzi, questa cosa qui... Oggi mia madre e mio padre quando leggono questa cosa qui sul giornale e restano sul giornale li prendono un collasso. Eh, a tuoi. Battaglia in Assyria. Allora, la macchina bianca aranciona è andata via con l'agente armata a bordo. Sì, taxi di merda. Sono tutti i taxi quelli lì. Però ragazzi, quelli ci hanno guardato, eh. Sì, ci hanno visto sì. Sì, la situazione è sotto controllo. La novità è andata un po' di più? No, la novità è che se avete già intermata cominciamo anche a... Ragazzi, se vedete qualche cosa, se vedete... No, comunque da qui a lì giù al fatto del calcolo polo sono 700 metri. Noi siamo tranquilli. Oh, da qui... Noi non sono tranquilli. Da qui con gli RPG siamo a posto. Non ci... È difficile che ci arrivano. Però se vedete qualche macchina con qualche mitra elettrica sopra... Oh, il pick-up sta andando via. Paolo. Paolo. C'è il telemetto tu o ce l'è ancora lui? No, questa la smonti perché tante le non fanno Per la trattare così male, si potrebbe lontano La appoggio qua, Simo, la vuoi che la metto dentro? Questo è il massimo Questo? L'altra macchina che sopra aggiunge, pari accesi 700 metri hai detto, no? Si Anche se non gli aumenti quello, basta che tirino il colpo e vedi dove vanno Ma è giusto per avere all'incirca una direzione A parte che qua si praticamente a tiro testa Però stanno calmando i botti, hai visto? Via al Simic